L'uscita di F1-23 fissata per il 16 giugno è ormai dietro l'angolo, e c'è un motivo in più per attenderla con ansia. Tra le modalità presenti, infatti, ci sarà anche Breaking Point 2, sezione di gioco fortemente incentrata sulla narrativa in cui torneremo a seguire le vicende del pilota Aiden Jackson dentro e fuori dalla pista. Noi abbiamo provato i primi tre capitoli di questa modalità, e siamo pronti a raccontarvi le nostre impressioni. La Formula 1 è asfalto, velocità e sorpassi, ma al pubblico piace anche lo spettacolo del backstage, il post-gara, i piloti che se le suonano per una manovra al limite del regolamento e altre situazioni al cardiopalma. E per andare incontro a questa esigenza di spettacolo, dal 2019 è disponibile su Netflix uno show televisivo chiamato Drive to Survive. Si tratta di una serie TV in cui vengono mostrati alcuni retroscena molto interessanti del mondo della Formula 1, così da rendere un'intira stagione sportiva ancora più adrenalinica. Ed è proprio seguendo le orme di Drive to Survive che gli sviluppatori di Codemasters hanno introdotto per la prima volta in F1 2021 la modalità Breaking Point. Si tratta di una sezione di gioco dove la narrativa è il perno principale, grazie a scene di intermezzo e filmati realizzati in computer grafica. Il gameplay viene quindi intervallato da alcune situazioni verosimili che possono verificarsi nel paddock di Formula 1, tra rivalità a discussioni con i team principal e battibecchi con il compagno di squadra. E il tutto è stato condito dagli sviluppatori con tanta spettacolarità, una storia credibile e alcuni interessanti colpi di scena. Abbiamo lasciato Aiden Jackson, il pilota immaginario protagonista di Breaking Point, al termine della stagione 2021, durante la quale ha dovuto tenere testa un compagno di squadra con molta esperienza e affrontare un rivale arrogante e presuntuoso. Tuttavia, non preoccupatevi della trama, perché F1 23 conterrà un riassunto completo degli avvenimenti passati. L'Incipit ci porta dunque alla presentazione della nuova scuderia fettizia, che debutta nel campionato 2022 di Formula 1, la Connersport Butler Racing Team. I piloti ingaggiati dalla squadra sono Aiden Jackson e Devon Butler, il figlio del proprietario della scuderia. In Breaking Point 2 dovremo affrontare quindi ben due stagioni, andando a ripercorrere le tappe più importanti che porteranno allo sviluppo della trama. Durante i primi tre capitoli abbiamo vissuto tre weekend di gara della stagione 2022, ed è quindi lecito aspettarsi che la modalità sia più lunga della precedente, la cui durata si attestava sulle cinque ore circa. Durante la nostra prova abbiamo avuto modo di impersonare sia Aiden Jackson, sia Andre O'Conner, il team principal della scuderia. Nei panni del pilota dovremo gareggiare in pista e affrontare alcune particolari situazioni di gara, come sorpassare il compagno di squadra, rimontare dopo un grave errore, oppure entrare in zona punti e segnare il giro veloce. Le sfide proposte sono intriganti e mettono alla prova il giocatore immergendolo subito nel vivo dell'azione. Non c'è tempo di preparare il setup, fare qualche giro di riscaldamento o scegliere le gomme più adatte. Il gioco ci scaraventa nel bel mezzo del Gran Premio con uno o più obiettivi da portare a termine e qualche sfida bonus per raccogliere ulteriore esperienza. Ma il lavoro di Aiden Jackson non finisce una volta sceso dalla monoposto. Nel paddock infatti il nostro alter ego dovrà affrontare schiere di giornalisti pronti a metterlo sotto pressione, la rivalità con alcuni piloti e le prestazioni della sua vettura. Successivamente sarà anche possibile spostarsi negli spazi privati riservati alle scuderie, dove ripercorrere la gara con il Team Principal discutendo di eventuali scelte sbagliate e miglioramenti. Inoltre dovremo interagire con gli altri piloti scegliendo tra diverse risposte possibili, così da modificare la progressione. Nei panni del Team Principal invece sarà necessario prendere alcune decisioni che influiranno sull'avanzamento della storia. Non potremo iscriverci al canale di Multiplayer.it, purtroppo, ma per quello potete sempre rimediare con un semplice click qui sotto. All'inizio della nostra avventura un menu consente di scegliere tra tre livelli di difficoltà, ed è qui che nasce la nostra prima preoccupazione. I tre livelli sono chiaramente diversi tra loro, ma sono davvero troppo pochi. Inoltre, nella build che abbiamo testato, il gioco non permetteva di modificare la difficoltà con il classico sistema presente nelle altre modalità di gioco. Una scelta incomprensibile, a maggior ragione perché il titolo presenta una gestione dell'intelligenza artificiale molto avanzata. E come se non bastasse, ci sono evidenti problemi di bilanciamento. Le sfide proposte nei primi due capitoli sono completabili senza alcun problema alla massima difficoltà, ma quelle del terzo appaiono invece quasi impossibili da portare a termine. Cambiando il livello di difficoltà, abbiamo invece demolito gli avversari. La scelta degli sviluppatori di inserire due stagioni di Formula 1 all'interno di Breaking Point 2 è apprezzabile. Nei primi capitoli ci siamo trovati di fronte alle monoposto e ai piloti della passata stagione e la possibilità di vivere entrambe le annate rende la storia di Hayden Jackson ancora più verosimile. L'azione in pista è infatti molto soddisfacente ed è caratterizzata da sfide capaci di dare del vero filo da torcere. Purtroppo, lo stesso non si può dire delle situazioni al di fuori della monoposto. Le interviste si dimostrano molto ripetitive e identiche a quanto visto in passato, anche in altre modalità come la classica carriera. E anche le scelte di gestione intraprese nei panni del team principal non convincono, e in generale gli elementi di contorno appaiono superflui e poco curati. La modalità Breaking Point 2 è senza dubbio una gradita presenza in F1 23, specie per chi ama lo spettacolo e retroscena del mondo della Formula 1. Le carte in tavola sembrano quindi essere quelle giuste, anche al netto di alcuni problemi come la gestione della difficoltà e le fasi al di fuori dal circuito, che risultano particolarmente deboli. Inoltre, non è ancora chiaro come le nostre azioni andranno a influire sulla progressione e come potranno modificare l'avanzamento della storia, le prestazioni della nostra squadra o i rapporti con gli altri protagonisti. La trama, i personaggi e le dinamiche sembrano invece promettere bene, ma dovremo attendere comunque la versione finale del titolo, per emettere un giudizio definitivo. Secondo voi, la modalità Breaking Point 2 sarà in grado di offrire un'esperienza solida e divertente? Diteci la vostra nei commenti, mentre qui a fianco trovate dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima! ! Viilassare questo pass The Haven Pass We did it! We did it.